Questo video ragazzi sarà un po' diverso dal solito perché parlerò molto di meno e lascerò più spazio alle scene e alla musica giusto per farvi cogliere al meglio l'essenza e l'atmosfera che questo posto magnifico dà Benvenuti in un mio nuovissimo video e oggi vi porterò all'interno della città silenziosa di Medina una città che risale a circa 2000 anni fa, si tratta del 1000 a.C. fondata dai Fenici Grazie a tutti 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 Vedete che ci sono due orologi lì? Sapete perché questo avviene? Perché, secondo l'antica credenza, un orologio funzionasse e un altro no, era fermo. Così che il diavolo quando arrivasse non percepiva bene il tempo e quindi si confondeva. Io spero che questo abbia funzionato, che dire. Lo sapete che Malta e in particolare Medina è una miniera d'oro per i film di Hollywood. Infatti sono stati girati tantissimi film e tantissime scene. Ad esempio vi ho detto qualche immagine come World War Z, Jurassic World 2, Il Dominio, la serie di Game of Thrones, ma anche ad esempio Troy nella Blue Lagoon. Ma vabbè dai, non vi disturbo più. Torniamo al video. Sì, ciao. e niente ragazzi come tutto l'inizio è tutto una fine quindi questo è quanto mi è piaciuto condividere con voi il mio piccolo ma intenso viaggio a Malta e che dire spero che ci rivedremo presto grazie a tutti